Buongiorno, oggi abbiamo visto tutte le tecniche con il Nelson e con la papera incrociata che è il trucco fondamentale. Allora, papera incrociata, piedi aperti, questo diventa il Nelson avanti. Papera incrociata, piedi aperti, papera incrociata, piedi aperti, ok? Poi, seconda tecnica, papera incrociata, contro papera incrociata, diventa una X. Ok, in mezza tecnica, spenso l'altro indietro, papera incrociata, incrociato indietro, papera incrociata, incrociato indietro, papera vi propongo il seguente mix, ovvero avanti X indietro X, avanti X indietro X, avanti X indietro X. Andiamo a farlo, Nelson avanti X, nelzolo indietro X e così via, nelzolo avanti X, nelzolo indietro X. Cerchiamo di farlo un pochino più veloce. Questo vi dà una certa indipendenza del busto rispetto alle gambe, le gambe faranno un gioco e il busto resterà quasi fermo o comunque poco movimento. Ok? Allora, papera, invenzione avanti, papera incrociata, indietro X, avanti X, avanti X, avanti X, avanti X. Avete visto il gioco? Ciao a tutti, alla prossima! Grazie a tutti!